Iniziamo la conferenza stampa del film fuori concorso nella sezione ritratti e paesaggi. Marco inedito dagli ultimi cento giorni di Marco Pannella, regia di Simona Ventura. Sulla mia sinistra abbiamo Simona Ventura, Giovanni Terzi, che è ideatore dell'opera, e metto Angioli, autore. Poi in prima fila abbiamo Mirella Parachini, Laura Hart, Elisabetta Zamparuti, Sergio Delia, Saturnino, Rita Bernardini e Alberta Bargili. Quindi io come mio consueto chiedo sempre di poter iniziare dalla sala se qualcuno avesse qualche curiosità, evitando quindi che io inizi facendo domande epocali che rimangono nella storia delle conferenze stampa. Siccome faccio delle domande di una parità assoluta preferisco sempre che inizino, però questa volta sono aiutato. Sì, non vorrei fare io la domanda epocale. Saremo in due nel caso, non ti preoccuparti. Francesca Angeleri, Corriere della Sera, buongiorno. Volevo chiedervi una cosa tra il documentario e voi due, perché avete detto che questo documentario è una passione che vi unisce. Che elemento è stato Marco Pannella tra di voi? Come ne avete parlato? Quando ne parlavate? Insomma, sei stato un personaggio importante anche a casa, intendo. Rispondo io? Devo iniziare io, sì. Diciamo che è stato importantissimo perché, come posso dire, è complesso di solito lavorare con la propria compagna. Noi facciamo due lavori totalmente diversi, cioè lei lavora in televisione, eccetera, io scrivo. E quindi sono due ambiti totalmente diversi. Lavorare assieme, e in questo senso Marco Pannella ci ha unito ancora di più, è stata un'esperienza straordinaria perché ci ha permesso di capire ancora di più quanto fosse importante, almeno per me, il nostro amore. Quindi c'è una frase di un video che poi è nella docu, che ha proprio girato Laura Art, dove Pannella dice «Solo l'amore conta, l'odio è per i poveri stronzi». Ecco, secondo me questa frase è la frase che comunque ha unito ancora di più le nostre persone, se mai ci fosse stato bisogno, però probabilmente c'era bisogno ancora di più di unire. Per me è la stessa cosa, nel senso che conoscevo poco Marco Pannella, lo conoscevo per le sue battaglie, però effettivamente ero andata poco in profondità di questo personaggio che ho poi scoperto straordinario. L'idea è stata di Giovanni, di Matteo, insomma dice «Guarda questi filmati, no? Degli ultimi cento giorni di Marco Pannella». E guardando queste, sbobinando queste immagini, mi sono veramente appassionata a un personaggio, a un politico, per l'idea che abbiamo noi adesso in questo mondo moderno del politico, che era assolutamente diverso. Cioè lui ha fatto delle battaglie, non per se stesso o per la sua parte politica, ma ha fatto delle battaglie di diritto perché tutti noi potessimo scegliere. La libertà di scelta che viene sempre meno in questo mondo, che va così veloce, è in compartimenti stagni, che non ammette la caduta, che non ammette il fallimento, lo vediamo nelle giovani generazioni, mi ha molto appassionato. E da lì abbiamo cominciato a cercare di capire come da questi ultimi cento giorni potesse venire fuori una profondità, una libertà di pannella che noi un po' ci siamo scordati in questo mondo così, tra virgolette, moderno, del terzo millennio. Per cui ho accettato di buon grado, abbiamo lavorato su questo, abbiamo lavorato con un gruppo straordinario per montare questa docu. Ho scelto, abbiamo scelto, siccome lui è bravo con le parole, io invece, come dire, quando facevo la giornalista preferivo assolutamente lavorare con la musica e con le immagini, perché mi costava tantissimo scrivere, proprio una cosa che mi pesava, che vedevo come un dovere, mentre riuscire a lavorare per immagini mi veniva molto bene. e quindi abbiamo, ci siamo stati complementari in questa docu. Abbiamo scelto cinque parole in cui dentro c'era tutto il mondo di Marco Pannella. E io spero che più ragazzi possibili guardino questo documentario, perché è una piccola goccia nel mare, ma io penso che le giovani generazioni potrebbero, alcuni di loro, e se alcuni di loro potessero vedere questa docu, vedrebbero che la politica è anche altro, è anche passione, è anche ideali, e quindi magari si innamorerebbero di questo campo, che adesso è veramente molto, insomma, è guardato molto con sospetto, perlomeno. Ci sono domande? Allora, la domanda epocale che avrei fatto io era quella che Simona Ventura in questo momento ha detto, c'è una domanda, adesso finisco, poi ti faccio portare il microfono. Era proprio quello che stavo per chiedere, se questo Marco Pannella che per la mia generazione è stato qualcosa, io ancora ricordo, nitido di una manifestazione del partito radicale a Piazza Navona con Fabrizio De Andrè e ancora ho i brividi e un senso di commozione che mi prende, appunto questo film serva a far diventare Marco Pannella anche personaggio di riferimento per le giovani generazioni, quindi abbiamo già dato questa cosa. Era proprio il nostro intento, perché ho capito che poteva esserlo. Marco Pannella è, lo dico sempre, il classico personaggio, la persona, il politico di cui tutti possono scrivere e tutti in maniera diversa, perché era tante cose, era tanti, era tanti, tanti punti, e ognuno ha il suo punto di vista su Marco Pannella. E soprattutto prestava anche il suo corpo per quelle che erano delle lotte politiche. C'era la domanda... Ah, sì. Io volevo concentrarmi solo su un aspetto che è poi quello iniziale in qualche maniera del film, che è quello del rapporto con i carcerati di Pannella. Lui a un certo momento scopre che se può andare, come parlamentare, può andare liberamente nelle carceri, instaura questo rapporto e festeggia a casa sua col ministro che gli porta alcuni carcerati e questo la dice lunga proprio sulla sensibilità umana, prima ancora che politica. E volevo agganciarmi a un dato che è di questi giorni. Stanno pubblicando in questi giorni la percentuale dei suicidi in carcere di quest'anno ed è un rapporto spaventoso. Non solo sono 80 persone che sono già morte dall'inizio dell'anno di suicidi in carcere, ma addirittura sono 20 volte superiore ai suicidi, diciamo, che succedono normalmente. Allora, 20 volte... È ovvio che c'è una situazione di disagio, eccetera, ma 20 volte è una cifra spaventosa, mostruosa. Non so se è come voi avete cominciato a lavorare e siete partiti da lì. Ma mi sembra un tema di stringente attualità di cui Pannella si è occupato tantissimo. Adesso la gente si ne occupa molto meno. Prego, Matteo. No, lo dico che proprio anche questo aspetto riporta... È bene ricordare, no? Quello che è stato Pannella per i carcerati. Perché effettivamente siamo ancora molto indietro da questo punto di vista. Non c'è un cambio culturale per cui si può pensare che la gente in carcere può avere anche una seconda possibilità, si può recuperare. Però è molto difficile perché abbiamo passato anni dure in cui si dice si butta via la chiave, mettetelo in carcere. Quindi è un cambio molto lento purtroppo e deve essere anche un cambio culturale, non solo un cambio di forza politica. Però su questo Matteo può rispondere. Volevo dire una cosa io solamente perché in realtà questo poi risponde Matteo che è stato l'assistente per 15 anni fino alla fine dei giorni di Marco Pannella e quel giorno in cui è arrivato il ministro Orlando, Matteo, Laura erano lì presenti. Io voglio dire che tutti gli argomenti che sono trattati in realtà nella docu incredibilmente sono degli argomenti attuali perché è vero quello del carcere, è vero quello dell'aborto, è vero quello della cannabis e della legalizzazione della cannabis, è vero anche quello del fine vita, cioè incredibilmente siamo ancora lì. Ecco, questo è un'osservazione per cui solamente per dire che effettivamente quando siamo entrati nuovamente nel mondo di Marco Pannella delle battaglie che ha fatto si sono resi conto che siamo ancora lì e questo è, come posso dire, è una segnalazione ed è qualcosa che dobbiamo capire perché e insomma farci una riflessione seria. Matteo. Grazie Giovanni. Ma prima di tutto devo e voglio ringraziare di cuore Simona e Giovanni perché hanno dimostrato una disponibilità, un'attenzione, una pazienza anche nella costruzione di questo progetto che mi hanno veramente impressionato e mi hanno davvero fatto comprendere la volontà e la serietà e la, devo dire, anche l'esito notevole che credo questo progetto porti e abbia e per venire quindi davvero veramente ci tengo molto a ringraziarvi perché contribuite in qualche modo anche con questa conferenza e con questo progetto a fare luce non solo sugli ultimi giorni di Marco che sono stati un momento buio per molti generalmente il momento del trapasso è un momento triste e buio e difficile ma Marco lo ha voluto vivere in maniera pubblica aperta portando luce e portando dentro la vita io penso che sia stato anche più vivo lui di alcune persone che venivano a trovarlo in qualche modo per cui come hanno gettato un'ulteriore luce un'ulteriore apertura in quella dimensione degli ultimi mesi di Marco questo è credo un altro contributo che viene dato anche alla lotta alla battaglia per aumentare la consapevolezza nella popolazione italiana di noi cittadini italiani dell'importanza del carcere degli istituti penitenziari che comprendono sia i detenuti ma sia anche gli agenti penitenziari non dobbiamo dimenticare che anche gli agenti penitenziari i direttori il personale i volontari vivono situazioni di tortura direi e di avversità veramente gravi quindi questo è l'anno sorribilis possiamo dire per il mondo penitenziario con oltre 80 purtroppo non ho il numero preciso a mente adesso ma credo che abbiamo raggiunto gli 80 suicidi quest'anno è un dato che deve far riflettere e uno dei risultati ma come vediamo non sufficiente già raggiunti con decenni di campagne è proprio questo intanto c'è una maggiore consapevolezza che nella popolazione nella cultura nella politica italiana si è radicata sottolineo che non è assolutamente sufficiente ma è un primo tassello che è stato posto il presidente napolitano anni fa si espresse formalmente su questo tema Mattarella il presidente Mattarella ha dimostrato un'attenzione e quindi questi sono elementi ingredienti importanti formali che permettono di costruire nuove iniziative perché come hai giustamente ricordato la piaga il flagello del carcere esiste ancora domande? allora vado io peggio per voi io dico una cosa che secondo me è limitativo il titolo gli ultimi cento giorni di Marco Pannella perché in realtà questo documentario dà veramente un'idea certo non completa perché sarebbe impossibile di un personaggio ci vorremmo una serie esatto che non sarebbe poi sbagliato fare una serie documentaria appuntate che potesse raccontare se non altro poi la storia politica italiana di tutti quegli anni la cosa che mi ha colpito è che è un documentario che a parte dei momenti di grande commozione io per primo purtroppo ho anche avuto la lacrimuccia se non altro quella è la vecchiaia purtroppo ma no perché poi è una questione senile perché uno pensa al passato ma ci sono momenti di grande divertimento ecco io trovo bella questa cosa che si è andato a scegliere quello che potesse dare un momento di gioia di gioia nella vita di questo personaggio chi vuole rispondere? questo mi viene anche dai insomma sono tante cose sono un po' trasversali prendo mia nonna diceva impara l'arte metti la da parte quindi diciamo che questa leggerezza mi viene proprio da come io ho costruito sempre anche i miei programmi televisivi il famoso alto-basso di Freccerani a memoria ci vogliono dei momenti leggeri dei momenti proprio perché non può essere tutto molto pesante tutto molto profondo ci devono essere tanti momenti per cui quando ho visto che poi voglio dire i momenti di leggerezza li ho vissuti anch'io anch'io mi addormentavo se parlava qualche politico anche quando parlo io esatto ogni tanto mi addormento no nel senso no no però è proprio voluta anche perché credo che i momenti diciamo più profondi siano ancora più rafforzati poi dai momenti leggere siamo riusciti a fare un mix che speriamo molto bello devo dire che le parole di Renato Zero sono momenti esilaranti quando chiede sia Amelia da ricordi sono momenti veramente altissimi sì che non parla di musica come uno si potrebbe immaginare da uno come Renato Zero ma parla della zia della zia Letizia quella con i baffi eccetera eccetera poi volevo ricordare che la colonna sonora della docu è di Saturnino Celani originale quindi siamo contenti la costruita apposta per noi per questa documentaria grazie mille tranne a uno splendido momento in cui Marco canta una canzone di Francesco De Gregori sì quello è stato quello è stato molto emozionante perché era la sua canzone preferita no bene di Francesco De Gregori e noi siamo riusciti a mettere a mettere insieme a fare questo finale che insomma ci piace molto ci ha fatto commuovere se continuo a chiedere se ci sono domande io lo faccio per voi c'è una domanda grazie molto semplicemente avete detto appunto che la speranza è che tanti giovani lo vedano che cosa si sta facendo dove si vedrà che tipo di lavoro state facendo anche per magari portarlo appositamente verso i giovani grazie intanto stiamo aspettando e scegliendo il broadcast su cui su cui mandarlo era importante che questo documentario si celebrasse qui con un evento speciale al festival di Torino e credo che sia Simona che io vogliamo ringraziare davvero il festival si vede la casa che comunque ha apprezzato il lavoro della regia di Simona e il nostro lavoro quello che succederà ce lo stanno chiedendo in tanti nel senso che questo è già un elemento molto positivo quindi al di là del broadcast sicuramente faremo una serie di iniziative anche istituzionali le stiamo valutando vogliamo prima capire quando sarà proiettato però certamente nelle sedi istituzionali che possono andare dal Parlamento italiano al Parlamento europeo alle scuole sicuramente questo documentario si vedrà è un come posso dire è un work in progress quindi questa è la nostra ambizione altre domande? prego Francesca se no poi subentro io facevo una riflessione sulla figura di Pannella perché questo immagino sia un documentario che celebra un grande uomo oltre che un grande politico ma la domanda mia è come fa l'Italia oggi senza una figura come Pannella laddove i suoi eredi lo chiedo un po' tutti e tre e faccio riferimento specifico a Marco Cappato in questo momento non vengono messi nella posizione di accedere ai ruoli politici quindi come si diceva prima i temi sono sempre lì forse addirittura forse anche un po' peggiori e quindi come si fa? Possiamo chiedere a secondo me a Matteo che non ha la ricetta però cos'è successo dopo la morte di Pannella? è successo che si è sparpagliato nel mondo quello che lui aveva creato cioè tante persone iniziative che hanno tratto ispirazione e insegnamenti da lui si sono autonomamente o no organizzate per portare avanti alcuni temi io penso una cosa semplice che alla fine non è che morto Pannella se ne fa un altro Pannella come ognuno di noi è qualcosa di unico e irripetibile lui è stato anche speciale forse più di altri sicuramente più di altri ma Pannella Marco si è coltivato negli anni si è coltivato si è cresciuto si è appreso ad essere a diventare Pannella nel corso degli anni e dei decenni quindi in futuro come dire non lo sappiamo potrà esserci un altro Pannella altri due Pannella dieci Pannella forse anche migliori di questo Pannella che conosciamo noi difficile ma è per dire che tra due generazioni tre generazioni probabilmente ci sarà qualcun altro che avrà conoscerà un mondo in cui farà saranno importanti alcune iniziative alcune forme di lotta perché giustamente tu prima hai parlato di forma e sostanza e Marco abbinava alla sostanza una forma perché i fini prefigurano i mezzi quindi per lui la non violenza era un ingrediente uno strumento fondamentale che già era in sé l'obiettivo era in sé già parte dell'obiettivo e della sostanza per cui tra magari una due tre generazioni vedremo qualcuno che attingendo agli insegnamenti della non violenza la pratica della non violenza attuerà in modo convincente in modo efficace queste forme di lotta che corrisponderanno ai bisogni alle esigenze dei tempi che verranno tra due tre quattro generazioni per cui saranno i nostri pronipoti di fronte a qualcuno che ancora meglio ai loro occhi metterà in pratica quello che ha fatto con una passione e una vitalità e una fantasia a noi per noi impareggiabile Marco Pannella e poi il diritto alla memoria no? siamo in un mondo in cui ci sia poca memoria già ce l'avevamo prima poi dopo il mondo di internet ha cancellato la memoria ha cancellato il ricordo quindi le docu secondo me hanno anche questo questa funzione quella di tenere viva la memoria di un personaggio quindi più si vedrà e meglio sarà per chi magari non conosce Marco Pannella o ne ha sentito parlare dal padre o dai nonni e non lo conosceva e potrebbe avvicinarsi e potrebbe anche appassionarsi al mondo di Pannella questo è un po' diciamo l'obiettivo che noi abbiamo quando ci avviciniamo alle docu perché penso proprio alla testimonianza che si lascia nelle prossime generazioni una testimonianza che devo dire che con internet con l'avvento di internet ci sono tanti vantaggi ma lo svantaggio è che si cancella la memoria quindi la docu comunque rimarrà come testimonianza abbiamo il tempo per un'ultima domanda prego sono Bruno Melano sono il garante detenuti della regione Piemonte approfitto di questo un radicale storico però anche anzi proprio per questo no volevo chiedervi pubblicamente la disponibilità a venire in carcere a presentarlo perché credo che accanto alle location istituzionali preziose e al dibattito pubblico credo che occorra dare atto anche al mondo dei detenuti alla comunità penitenziaria che è stata molto vicina a Pannella io ricordo il giorno del funerale che è arrivata dal carcere di Asti una corona fatta dai detenuti autotassandosi e trovando nel direttore nell'educatore la disponibilità a muoversi per trovare il fioraio a Roma che potesse portare in tempo e devo dire che mi sono commosso perché quindi una disponibilità Simona in particolare se fosse possibile volentieri veniamo volentieri perché noi facciamo diverse cose di questo tipo già prima della della docu siamo andati siamo andati dentro il carcere di opera opera bollate opera bollate non per parlare di pannella no però lo facciamo per volentieri di venire per parlare di pannella e non solo perché credo che queste persone abbiano anche bisogno di una di una parola di speranza cioè non ci può essere di una parola di speranza quindi pannella in questo sicuramente dava dava luce dava colore dava speranza allora chiudiamo con un ricordo personale di tante persone ma in maniera tra cui anche la mia e quando si andava a votare c'era Giacinto Pannella detto Marco grazie grazie a tutti